Nell'ambito dei progetti FSE promossi con bandi regionali, il Cesar prosegue nel proporre una serie di webinar gratuiti rivolti a donne disoccupate per sostenere l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di crescita personale e lo sviluppo di specifiche competenze. I dati sull'occupazione femminile nel corso del 2020 hanno dimostrato come la crisi del lavoro nell'era Covid abbia colpito soprattutto le donne, fortemente penalizzate a partire dal lockdown di primavera con 470 mila occupate in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, meno 4,7% secondo le statistiche Istat. Per questo parlare di nuove figure professionali e di come orientarsi nella ricerca del lavoro è un passo fondamentale e non solo per le donne ma anche per tutti coloro che cercano un'occupazione o vogliono implementare il proprio profilo lavorativo. Chiara Storti, web marketing e web developer, relatrice del webinar realizzato in collaborazione con il Digital Innovation Hub Vicenza. Sono qui per rispondere ad alcune domande che mi sono state poste in ambito di quelle che sono le professioni nel mio settore, nel settore del web marketing. Bene, vi confermo che sono veramente tante. Sono veramente tante perché è un settore ampio, è un settore in cui sempre più spesso si va specializzandosi in una nicchia, in una verticalizzazione specifica che possono essere tanto il social media marketing, tanto l'ambito grafico piuttosto che la programmazione e lo sviluppo o ancora l'ottimizzazione sia per i motori di ricerca. Quindi sempre più verticalità, sempre più specializzazione, sempre più formazione mirata. Questo perché? Perché l'ambiente e l'ambito è in continua crescita così come sono le richieste in continua crescita e quindi ci sono anche molte aziende che hanno delle posizioni aperte e quindi è un ambito lavorativo che offre ancora decisamente delle opportunità allettanti e gradevoli sia per i giovani sia per chi vuole comunque andare a sperimentare un nuovo ambito lavorativo. L'importante è una buona formazione, una buona esperienza, una buona propensione ad un ambiente molto dinamico e la capacità di leggere anche quelle che sono le offerte di lavoro andando a captare quelle che sono le competenze e le mansioni richieste in modo che siano il più possibili, compatibili con chi appunto vuole aderire a questa richiesta.